e siamo in cucina con lo chef Luca Mastromattei buongiorno grazie per essere qui a Veramattina e per presentarci questa ricetta di oggi che è una ricetta molto particolare intanto vediamo il brodo allora oggi presentiamo una zuppa di farro con una piccola mafaldina al farro con dei cavoletti di Bruxelles, delle cipolline, della lenticchia e del pomodorino d'atterino quindi abbiamo soprattutto facendo fede a queste temperature basse oggi creiamo una zuppa abbiamo già tuffato le mafaldine che vediamo qui nella pentola se vogliamo riassumere proprio rapidamente come si ottiene questo passaggio vedete l'acqua scura perché ho ottenuto una infusione di porcini secchi che mi dà quella nota di terra mi avvicina anche un po' gli ingredienti alla parte diciamo del cereale della terra con dei porcini secchi abbiamo già buttato le mafaldine zero sale perché poi lo andiamo a aggiungere in un secondo tempo pizzichi di farro, lenticchie e cavoletti di Bruxelles è la ricetta che vediamo anche nella grafica con 100 grammi di pasta, uno spicchio d'aglio 50 grammi poi 4-5 cavoletti di Bruxelles, pane raffermo, una foglia di alloro e poi ancora con, dicevamo... abbiamo inserito, ripeto, la base è questo brodo dove poi andiamo a cucinare la pasta che impiegherà 10-12 minuti e dopo pochi minuti andiamo a tuffare i cavoletti di Bruxelles e il cipollotto che abbiamo precedentemente saltato in padella in modo da dare quel senso di sia colore ma anche di rafforzamento del gusto perché ricordiamo comunque che le verdure quando vengono scottate si caramellizzano ricordiamo che il farro, il famoso tritticum che deriva dal fatto comunque che questo grano è decorticato è un cereale comunque che ha delle proprietà sia in termini di contenuti di proteine, farro e sali minerali fa bene anche la logica di cucina biologica molto in voga in questo periodo allora questo è l'effetto che vediamo hai aggiunto nel frattempo ho aggiunto il cipollotto sono delle cipolline piccoline sono delle cipolline piccoline che vengono fresche scottate con olio, sale e pepe e messe in questo brodo quindi va tutto insieme quindi nell'amido che rilascia un po' la pasta ci aiuterà ad addensare nel frattempo il porcino secco interviene rilasciando le sue essenze e poi del pomodorino questi che vediamo inquadrati questi sono dei datterini glassati con un po' di zucchero sale, olio extravergine di oliva che vengono poi inseriti dopo vengono inseriti dopo perché li vogliamo mantenere interi, integri senza che poi l'acqua e il bollore li vada a rompere precedentemente ho cotto le lenticchie mi sono anticipato queste lenticchie per tempi televisivi in una contura semplice acqua, una foglia di lauro, uno spicchio di aglio ho strizzato tra virgolette una fetta di pane raffermo per aiutarmi ad addensare quindi è una zuppa che ha bisogno di temperature fredde però può essere mangiata anche diciamo tiepida perché comunque ha delle caratteristiche dei sapori che escono fuori soprattutto diciamo nel bilanciamento tra l'amaro del cavoletto di Bruxelles che sembra apparentemente dolce ma è amaro con la scontata dolcezza del pomodorino il cavoletto di Bruxelles si chiama proprio così? sì sì, il cavoletto di Bruxelles sono quelli piccolini sì sì, sono diciamo sapidi, saporiti, dolci c'è una bella concentrazione di sapori ovviamente ho usato questa pasta al farro perché è una pasta a tema abbastanza vicina a quelle che sono gli ingredienti del territorio cerchiamo sempre di mantenere la selezione dei nostri prodotti nei confini della nostra regione o comunque diciamo italiani l'abbiamo già parlato nelle precedenti puntate anche con dei rappresentanti e degli esponenti importanti che tutelano la regione i suoi prodotti e soprattutto i produttori che sono insieme ai cuochi secondo me la filiera importante da conservare e da mantenere per poter servire poi nelle nostre tavole un prodotto di eccellenza questo è quanto io spero che a questo piatto venga abbinato un vino abbiamo anche sensibilizzato il sommelier che spero ci sia eccoci intanto abbiamo visto Luca che la ricetta ha preso forma eccola se vogliamo vogliamo riandare a inquadrare il prodotto la cucina allora intanto io Luca se intanto vuoi salutare vuoi salutarci con questa con questo piatto che è appena allestito e poi dando anche appuntamento a domani a te a te Luca sì abbiamo questa zuppa diciamo fatta come l'abbiamo ripetuta con delle delle mafaldine al farro dei porcini che poi andremo a conservare e del cipollotto scottato prima quindi viene proprio servita in maniera semplice così con una perfetto perfetto e vediamo che questo piatto come sempre è seguito magistralmente dallo chef Luca Mastro Mattei un piatto tipicamente invernale con questo i pizzichi di farro lenticchie e cavoletti di Bruxelles che noi inquadriamo grazie Luca per aver a tempo di record realizzato un piatto molto invitante grazie per essere stato con noi grazie a voi auguri e buon Natale a tutti e siamo alle anticipazioni dei nostri Tg come sempre a cominciare dalle ore 13 con il Tg Piemonte Covid contagi in crescita il governatore del Piemonte Alberto Cilio rassicura al lavoro per evitare la zona gialla e poi all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino interventi di chirurgia multidisciplinari con il nuovo robot installato ed operativo già da ottobre ancora siamo allo sport Juve di Bala verso il rinnovo fino al 2026 intanto sembrerebbe che anche Quadrado prolungherà il suo contratto e poi ancora il magico paese di Natale di Govone che si classifica decimo nella classifica dei migliori mercatini di Natale in Europa siamo alle anticipazioni del Tg Marche sempre dalle 13 con l'obbligo vaccinale per i docenti da oggi l'appello del presidente dell'associazione presidi Green Pass anche per gli studenti al via le prenotazioni per le dosi ai bambini ancora processo WIC sfilano i testimoni ripreso il processo a macerata per i presunti omicidi all'RSA di Offida sgomberato il giovane del Mali che viviva da due anni alla foce del Tesino a Grotta Mare quindi ancora petizione per la terza corsina in A14 raccolte già 5.000 firme in pochi mesi l'iniziativa promossa da Smart Piceno l'obiettivo è scuotere regione e governo dopo i lunghi disagi in autostrada e quindi vittoria da dedicare a Rozi siamo al calcio in particolare all'Ascoli parla il difensore Salvi sabato la Cremonese al Del Duca quindi la Samba Andreatini e Bucaro pronto il ribaltone rosso-blu intanto tra poco la sfida di Coppa con la Re Canatese per chiudere con il Tg Abruzzo dalle 13.30 da domani al via la campagna vaccinale anti-covid per i bambini dai 5 agli 11 anni individuati decine e decine di hub in tutta la regione si attende una buona risposta dalle famiglie i vaccini utilizzati saranno i Pfizer e quindi l'Abruzzo che entra a far parte delle reti TNT che assicurano i collegamenti tra differenti modelli di modalità di trasporto l'ha annunciato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Mazzilio dopo un colloquio con il Ministro Giovannini ancora aumenta pericolosamente il numero delle donne che hanno subito violenza nell'ultimo anno l'Unione dei Comuni della Val Vibrata ha attivato una rete di iniziative per dare sostegno alle vittime con percorsi di formazione gratuiti ancora dopo un anno di pausa per il Covid domenica prossima a Teramo si torna a festeggiare il Santo Patrono San Berardo che riprende la tradizionale processione con le reliquie del Santo e la benedizione alla città è davvero tutto grazie per essere stati con noi l'appuntamento domani mattina con Vera Mattina sempre a partire dalle nove grazie grazie a tutti grazie a tutti